Oggi voglio parlarvi del reato di maltrattamento in famiglia, previsto e punito dall'articolo 572 del codice penale. Contrariamente a quello che si pensa la famiglia non è sempre il luogo dove troviamo amore e serenità e l'ambiente che meglio ci accoglie. Esistono casi in cui proprio all'interno delle quattro mura domestiche si consumano dei reati, anche dei reati molto gravi come quello di maltrattamento in famiglia. Che cos'è? Il reato di maltrattamento in famiglia si verifica quando una persona della famiglia maltratta un'altra persona della famiglia attraverso una serie di azioni che possono essere di vario genere. Può essere un maltrattamento fisico, un maltrattamento psicologico, un maltrattamento economico e anche un maltrattamento di tipo sessuale. Queste sono le tipiche modalità con cui viene integrato il reato di maltrattamento. E perché si parli di reato è necessario che ci sia una ripetizione nel tempo di queste azioni maltrattanti. Non è necessario che ci sia una continuità ininterrotta di questo tipo di azioni, poiché spesso avviene che a un periodo di intensificazione di modalità maltrattanti si alterni un periodo di maggiore serenità. Questo non impedisce che si verifichi comunque il reato di maltrattamento se le modalità maltrattanti si sono reiterate, ripetute per un apprezzabile periodo di tempo. Il reato va evidentemente denunciato e a seguito della denuncia avvengono alcune cose. In particolare la preoccupazione di tante donne che per lo più sono le vittime di maltrattamento è quello che riguarda i figli, cioè quale fine faranno i miei figli se io faccio una denuncia. Allora è bene sapere che nel momento in cui arriva la denuncia all'autorità giudiziaria, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo per legge di comunicare al Tribunale dei minori l'inizio di un procedimento penale in cui i minori rientrano in quel nucleo familiare in cui è avvenuto un maltrattamento, anche se non sono il soggetto, l'oggetto del maltrattamento, il soggetto colpito direttamente nel maltrattamento, si presuppone che in un ambito familiare in cui avviene un maltrattamento e i minori assistano in qualche modo a questa situazione non possono che averne delle conseguenze. Quindi si manda al Tribunale dei minori affinché vi sia una valutazione. Questo non vuol dire che i minori vengono tolti alla madre, ma che viene valutata la capacità della madre di gestire da sola una situazione tanto grave, viene valutata la capacità genitoriale del maltrattante con la possibilità che si assumano delle decisioni anche in relazione proprio alla potestà, alla capacità genitoriale del genitore maltrattante, si valuta se dare un sostegno alla madre anche di tipo educativo e una serie di provvedimenti a tutela del minore. Questo davanti al Tribunale dei minori. Davanti al Tribunale ordinario inizia un'indagine. Inizia un'indagine in cui la persona offesa, la vittima, verrà ascoltata se non ha già dettagliatamente descritto nella denuncia i fatti, verrà chiamata a integrare e a meglio specificare le modalità del maltrattamento, verranno assunte anche, se necessario, dei provvedimenti a tutela della vittima e dei suoi figli. Per esempio, l'allontanamento dal nucleo familiare, dalla casa familiare, del soggetto maltrattante attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria che impone al maltrattante di allontanarsi dalla casa senza farvi ritorno, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e in alcuni casi viene disposto anche l'obbligo di continuare a contribuire al mantenimento della famiglia, in alcuni casi ancora più dettagliato il provvedimento che indica con quali modalità dovrà essere erogato il contributo al mantenimento di moglie e di figli. Parto dal presupposto che più spesso sono le donne vittime di violenza, non in assoluto, ma sicuramente più spesso. Sicuramente denunciare induce un timore di tutte le conseguenze che possono avvenire, ma esiste un apparato normativo a tutela delle vittime di violenza domestica per cui io ritengo che sia molto più tutelante denunciare con tutte le responsabilità che ci si assume e le fatiche che si vanno a intraprendere con questa scelta, piuttosto che patire e subire per lungo tempo una situazione di maltrattamento con le conseguenze sulla propria salute e sulla salute dei figli che al maltrattamento devono assistere quando non sono loro stessi vittime di violenza. E' bene anche che voi sappiate che le vittime di violenza domestica e di alcuni tipi di reati, ma in particolare oggi di questo stiamo parlando, hanno la possibilità di ottenere il gratuito patrocinio, ovvero che le spese di assistenza legale nel procedimento penale che consegue alla denuncia siano a carico dello Stato. Questo gratuito patrocinio si ottiene attraverso una domanda, un'istanza che viene redatta normalmente con l'aiuto del legale stesso in cui si allega uno Stato di famiglia e una dichiarazione di redditi, se di redditi ce ne sono stati, e si chiede allo Stato di essere sollevati dalle spese legali conseguenze. Questa è una norma che è stata introdotta proprio al fine di far emergere il fenomeno della violenza domestica, quindi non voglio sottovalutare la scelta della denuncia, che sicuramente è una scelta di responsabilità importante, ma allo stesso tempo voglio incoraggiare le persone che sono vittime di violenza a reagire attraverso la denuncia o comunque attraverso la scelta di rivolgersi a un centro antiviolenza, che sono centri altamente specializzati ad ascoltare e accogliere le vittime di violenza domestica e accompagnarle in un percorso di affrancamento della violenza e di libertà, della propria libertà personale e libertà dalla violenza. Buonasera. Buonasera. Sono costretto a ritornare su un argomento che già abbiamo affrontato e che può piacere o non piacere, qui il problema non è di condividere o non condividere, avere idealmente delle proprie aspirazioni o quelle che sarebbe la legge perfetta, il problema è che a volte la legislazione risponde a determinati criteri che possiamo condividere o non condividere, ma il problema è prendere atto di quello che è, perché se no è come se uno gioca una partita senza sapere quali sono le regole, ma giocando la partita con le regole che vorrebbe e che è sbagliato, le regole che vorrebbe non devono essere tenute conto, eventualmente possono essere tenute conto, non è una discussione politica, ideale, di riforma, ma non analizzando i problemi concreti che abbiamo davanti. Quando un lavoratore viene licenziato abbiamo più volte detto, più volte detto, che ha diritto a impugnare licenziamento e se il giudice dichiara che quel licenziamento era ingiustificato, era ingiusto, ha diritto ad un risarcimento. Un risarcimento che sappiamo variare tra piccole e grandi aziende, probabilmente troppo differenza tra piccole e grandi aziende, ma è un altro argomento questo. Quello che voglio dire è che se il lavoratore, andando davanti al giudice, il giudice invece dichiara che quel licenziamento era giustificato, attenzione, non sto dicendo giusto, perché giusto è un termine morale, può essere un licenziamento cattivo, ma non è il problema del buono o cattivo, il problema è se è legittimo o non è legittimo. E quindi se il giudice dovesse dichiarare che il licenziamento è legittimo, il lavoratore non ha diritto a risarcimento. Cioè in buona soltanto, d'altra parte il datore di lavoro ha degli spazi di discrezionalità e laddove questi spazi di discrezionalità vengono utilizzati correttamente, non è tenuto a dare nessun risarcimento. Come un lavoratore perde il posto di lavoro e non ha un diritto a un risarcimento, ha diritto da parte della collettività alla previdenza della disoccupazione, ha diritto eventualmente all'indenità di disoccupazione, oltre evidentemente a percepire i soldi già valegnati, i TFR e quant'altro, ma non ha diritto a un risarcimento per un danno che non gli è stato inferto, perché perdere un posto di lavoro è un danno, ma non gli è stato inferto, non gli è stato dato dal datore di lavoro in modo illegittimo, non ho usato la parola ingiusto, ho detto illegittimo. Faccio un esempio classico. Il datore di lavoro licenzia, però non è un datore di lavoro in crisi, non è un datore di lavoro che ha problemi di difficoltà economica, il lavoratore tende a impugnare e dice ma come, guadagnano un mucchio di soldi. Il datore di lavoro può giustificare legittimamente per una sopravvenuta inutilizzabilità di quel lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale. Perché? Perché le modifiche tecnologiche, perché le modifiche merceologiche delle materie che vengono trattate da quelle aziende sono cambiate e quindi il datore di lavoro certe materie non le tratta più, certe professionalità, quindi non ne ha più bisogno. Cito un esempio classico. Nel mondo dell'editoria, della stampa, noi sappiamo che fino a pochi anni fa esistevano una categoria dei lavoratori che erano peraltro lavoratori di alta professionalità e alta specializzazione al limite dell'artistico che erano quelli che lavoravano sul piombo, cioè quelli che compilavano le pagine con i caratteri a piombo. Questo lavoro è scomparso e non è che la ditta di di dottoria a quel punto ha licenziato, ha le ditte di dottoria, che hanno licenziato e tutto questo lavoro è scomparso, purtroppo è scomparso. È ingiusto forse questa scomparsa, ma in qualche modo bisogna tener conto che quel datore di lavoro aveva la legittima diritto di poter risolvere il rapporto di lavoro. Quindi vuol dire che all'avvocato, al consulente, nell'analisi che uno deve fare, non si deve porre il problema se una cosa è giusta o ingiusta, è bella o brutta, perché queste sono valutazioni personali, morali, deve domandarsi se quel provvedimento è legittimo o è illegittimo. E se il provvedimento è legittimo, ancorché brutto, politicamente inaccettabile, tutto quello che vogliamo, ma è legittimo, il lavoratore, ahimè, non ha diritto a un risarcimento. E che vuol dire? Che prima di fare una causa, pensarci un attimo, rifletterci un attimo, perché si potrebbe anche, come dire, avere delle brutte sorprese, non solo non portare a caso il risarcimento, ma prendere anche una sconfitta con possibile condanna le spese della controparte. Quindi, oltre al danno, anche la beffa. Grazie.